Welcome to Mirror TV Ragazzi siamo qui come al solito tutti i martedì per parlare dell'ultima puntata di Monday Night Raw La puntata dello show rosso che si è svolta pure lì come al solito lunedì sera Partiamo dall'inizio perché è inutile star qua a fare troppi discorsi Realizziamo come al solito quasi tutte le cose a mente abbastanza fredda Partiamo ovviamente dall'opener Il 3 contro 3 delle donne Charlotte Flair ha fatto coppia con Naya Jax e Shana Baszler Contro Asuka, Dana Brooke e Mandy Rose Roba assolutamente casuale Roba che però d'altro canto ci sta anche se si pensa che teoricamente anche Mandy Rose e Dana Brooke Sono rivalità con Naya e Shana D'altra parte Charlotte e Asuka sono rivalità praticamente da due anni tra un pochino La sua altalena dell'Alexa Playground e stava guardando chi? Tutte e sei le lottatrici più Reginald a bordo ringe sicuramente Alexa ha guardato anche Reginald perché lui è il fulcro A parte gli scherzi Alexa ci ha informato che era lì sulla rampa per seguire qualcuno in particolare Discorso molto vago perché se si guarda la contesa Alexa ha portato i suoi occhi su tutte e sei le componenti più Anche se prima l'ho detto teoricamente ma c'era anche Reginald a bordo ring E soltanto una mi viene da dire Sembra aver sofferto un po' la presenza della Bliss Io ho letto giustamente come andavo a dire anche diverse settimane fa Che Charlotte Flair è l'avversaria più disegnata per questa Alexa Bliss Però durante il match la cosa più strana la va a fare Shana Baszler Che a un certo punto durante la contesa si ritrova cartocciata sulle sue ginocchia senza un vero proprio motivo valido Qualcuno anche potrebbe aver pensato un infortunio o no Shana Baszler si è ritrovata sulle sue ginocchia e non riusciva più a rialzarsi Addirittura lì Asuka giustamente ne ha approfittato Ha buttato fuori la ring Naya Jax che stava per entrare per chiedere cosa stesse accadendo Giustamente alla sua da timpanna Shana Baszler Asuka fa fuori Naya Fa fuori anche Shana Baszler che si becca alla Shani Wizard Uno, due, tre Asuka, Mandy Rose e Dana Brooke battono quindi il team delle Hill E poi Charlotte Flair lancia il suo segnale andando a colpire Asuka Ma questo è passato un po' in secondo piano Perché Alexa Bliss ha iniziato a ridere insieme alla sua bambola Lily Ora c'è da capire se Lily ha tipo qualche potere voodoo Perché se uno pensa all'esecuzione della contesa Ironicamente o meno l'unica cosa che ho visto di strano È stato Shana Baszler che a un certo punto è caduta sulle se stesse ginocchia Non riusciva più a rialzarsi e lì mi è venuto quasi spontaneo Versare che Alexa Bliss e Lily l'abbiano con Shana Baszler Non so il perché Però è anche vero che Lily è una bambola pazza Charlotte Flair sinceramente parlando non è che io l'abbia vista così interessata da Alexa Bliss Anche lei come le altre ha deniato i diversi sguardi L'ex goddess è lì sulla rampa Però non è che c'è stato niente particolare Addirittura Charlotte poco dopo l'abbiamo rivista nuovamente Così come Asuka E lì di Alexa non c'è strada minimamente traccia A meno che non mi sono perso qualche altro pupazzetto Però insomma lì non c'è strada minimamente traccia Chi lo sa Andiamo avanti Andiamo avanti e vi dico già che torneremo a parlare presto di Asuka e Charlotte Flair Soprattutto di Asuka che ha accettato un match contro Rhea Ripley Match però indetto non tanto dall'Australiana Bensì da Sony Deville che aveva ascoltato il consiglio di Charlotte E Asuka volendo fare la solita guerriera Ha accettato di fare un match contro Rhea Ripley in questa puntata di Raw Nonostante abbia combattuto anche lì nell'Opener Quindi abbiamo avuto due volte Asuka Già che ci stiamo Parliamo anche già di questa situazione così chiudiamo tutto quanto sto capitolo qua Asuka contro Rhea Ripley È stato un buon match secondo me Mi hanno intrattenuto le due Sicuramente meglio Secondo me se si evita anche l'idea del bocce che c'è stato lì a Raw Ed è post per se meno ovviamente Secondo me molto meglio sto match qua che quello che accadde appunto all'epoca Certo la presenza di Charlotte Flair a bordo ring al tavolo di commento Ha aiutato le due a dare qualcosina in più Ma c'è stato anche un bel momento importante Perché di solito quando ci sono distrazioni È quasi facile capire il finale Qui invece sono giocato molto bene Perché Charlotte e la grandissima Rhea Ripley A un certo punto si trovano a discutere una contro l'altra con Charlotte Però non tocca Rhea Ripley che viene attaccata quindi al primo punto da Asuka Non contenta Asuka prende Rhea Ripley e la sbatte sul ring Continua la sua offensiva e uno dice Cazzo Rhea Ripley non riesce più a reagire dopo essere stata distratta in quel modo da Charlotte Può essere che perde anche un po' della pina come al solito no? No ragazzi Straordinariamente Rhea Ripley riesce a respingere l'attacco di Asuka Rhea Ripley arriva addirittura a connettere la sua finish Uno, due, tre Rhea Ripley batte in maniera sonora a Asuka Ok che c'era stato tutto il match lì nell'opener con Asuka con Volta Rhea Però mi viene a dire che è stata una vittoria bella sonora Non me ne vogliate Cioè Asuka stava anche prendendo un po' il vantaggio di Charlotte Che aveva distratto l'Australiana fuori dal ring Poi però comunque Rhea è una fregata Non manco di roll up Mersì proprio con la finisher Uno, due, tre Finale che a me sinceramente piace Come vi dicevo mi lo dividerò A me Rhea sta convincendo molto di più di Bianca Belè Cioè mi sembra proprio una buonissima campionessa Che sta vivendo momenti soltanto alti E magari medi, mai bassi Cioè io non ho mai visto una Rhea Ripley toccare roba in fondo in queste puntate Quali era molto importante perché è arrivata Tato Short, WrestleMania ha vinto il titolo Boss, WrestleMania è rimasta campionessa Cioè stiamo parlando di un'area Ripley che sta funzionando secondo me Poi questo ovviamente è tutto quanto soggettivo Passiamo avanti ragazzi Passiamo a parlare di qualcos'altro Perché dobbiamo ritornare a seguire la card Non vi sto a parlare qua di tutti quanti i segmenti Tipo per esempio quello tra Gulak e Garza Che sembra che abbiano iniziato sta storyline Vediamo un po' se la svilupperanno a Raw Oppure, oppure la rivedremo a main event Posso qua starvi a citare magari un MVP Che si presenta nel camerino di Braun Strowman Prova a corteggiarlo tra virgolette Ma Strowman non è che si faccia comprare da gente come MVP Anche se poi nel main event succede qualcosa Qualche segmento particolare nel backstage c'è stato Quindi vi ho sottolineato questo di Braun Come posso sottolineare anche quello di Eva Marie Che si è presentata con un altro promo Che rimarca il fatto di essere una donna particolare Anche se ciò che si è autoprogrammata a lei Non è nulla di nuovo Addirittura si confessa essere una role model Stile Bailey, stile Britt Baker Però lei addirittura si è elevata Addirittura super role model Ora, non voglio cercare ancora di capire bene la situazione Perché Eva Marie, messa così Soprattutto durante quel photoshoot Dove lei si faceva fare tutte le foto Mi sembra che possa essere più una donna d'immagine Che una lottatrice vera e propria Poi se si pensa un attimo a Raw Non sai proprio dove metterla Eva Marie A livello proprio di match Forse sarà manager da qualcuno Io inizio a pensare questo ragazzi Se no, faccio fatica proprio a collocarla Anche sto discorso qua Super role model Eva Marie non l'è mai stato E ora, il fatto che lei faccia dei photoshoot Rimarcando anche un po' i tempi delle divas Di certo non è che la possa proclamare come tale Anzi, giustamente, anche Bailey lì Le ha mandato una frecciatina sui social Staremo a vedere, ragazzi Sono leggermente curioso di capire Dove vogliono arrivare a parlare con Eva Marie Molto, molto curioso Qualcuno potrebbe dire Ma che se ne è fatto? Di certo, ragazzi, nelle tre ore che ci offrerò I promo di Eva Marie quantomeno gli lasciano un dubbio Davvero vogliono provarla A metterla sul ring contro Charlotte, Rhea Ripley, Asuka, Alexa Bliss Mi sembra una scelta folle Forse da manager Sfruttando anche sto progetto qua Che potrebbe anche finire nel cestino Visto quello che è successo negli ultimi anni a Raw Un pochino di curiosità me la mette So curioso Anche perché non hanno puntato in passato Con gente con Billy Kaye Pedro Royce Ora puntano su Eva Marie Chissà in che modo Chissà in che modo Parliamo di quest'uomo qui Jinder Maal, ragazzi Allora Quando io vi dico Durante ovviamente i Mirror TV Ma anche durante i commenti di Raw SmackDown Che Menevent non conta nulla Queste sono le prove Questa è l'ennesima prova Perché diciamoci la verità ragazzi Maal che ritorna a Raw Va a presentare la sua nuova stable Poi a fine match Dopo aver battuto Jeff Hardy In una manciata di minuti Ragazzi Incredibile Maal che batte In una manciata di minuti Jeff Hardy È una cosa che io proprio Non riesco a digerire Ma vado oltre Vado oltre su questo lato qua E cerco di analizzare tutto quanto Con Maal che ha riversato La twist of fate di Jeff Dopo un paio di minuti E connette la sua finisher Uno, due, tre Jinder Mahal schiena Jeff Hardy Di fronte agli occhi Dei suoi due nuove amiconi E poi Prove a analizzare il post match pure Con Maal Che va a dire All'intervistatrice Che questo È un suo nuovo inizio Gli piace affrontare Nuovi avversari Nuova competizione E io mi sto mettendo le mani nei capelli A parte che Nuova competizione Jeff Hardy Maal l'hanno fatta due anni fa E vabbè Ma poi Maal Cioè ma com'è possibile Che la gente Cioè che il booking Vuole prendere in giro la gente Cioè Maal ha affrontato Jeff Hardy a Menevent Ora capisco Che nessuno Se ne vede Menevent Ma la stessa David a lui Punta su ste cose Se tu andavi su david.com Vedevi Settiva una scorsa Che Maal era tornato E aveva affrontato Jeff Hardy Qual è questa nuova competizione Per Maal A parte questo Cioè poi Maal e Jeff Hardy L'abbiamo visto in tutte le salse Per il titolo Gli Stati Uniti Se non mi sbaglio Io non capisco proprio A volte il booking Che cosa va a pensare Per Stati Uniti Che poi sono obbligati A fare sti promo Ora Dove può arrivare La nuova stable Di Maal Ma Prima di tutto Bisogna vedere se Quei due Che l'hanno affiancato Andranno a mettersi In adattive division Questo è sempre Un punto interrogativo Guardate Di Barra e Mace Sono spariti nel nulla Dopo aver battuto Braun Strowman E Drew McIntyre Teoricamente Ma va bene così Figuratevi quei due Ma addirittura Maal Nel Ro Talker E post Ovviamente Ro E' andato a dire Una frase Secondo me Assurda Che i giorni Di Bobby Lashley Da campione d'Aguida 2 Sono contati Perché lui sarà Il prossimo Campione d'Aguida 2 Tutto questo discorso qua Ovviamente Maal L'ha fatto In ottica Money in the Bank Anche perché A presto Minia Backlash Bobby Lashley Sarà impegnato Con Braun Strowman E Drew McIntyre Ora Sono sinceramente Un po' Preoccupato Sono sinceramente Un po' Preoccupato Perché pensare che Maal vada Nel Money in the Bank Lover Match Mi preoccupa un po' Vederlo con la Briefcase Nel 2021 Secondo me Sarebbe una cosa oscena Anche con lo scenario Di un Bobby Lashley Campione d'Aguida 2 Con Drew McIntyre Campione d'Aguida 2 Con Braun Strowman Magari Campione d'Aguida 2 In tutti e tre i casi L'unica cosa Forse Drew McIntyre Campione d'Aguida 2 Visto quello Che ha separato Maal E Drew McIntyre Negli anni Ma va bene così Ma insomma Maal Money in the Bank Cioè Roe ha un roster Pauroso A livello di Midcarder E future Uppercarder Io ovviamente Devo citare sempre Keith Lee Ricochet Jeff Hardy Ci metto anche Mustafa Lee Che secondo me È Anni luce Avanti a Maal Anni luce Avanti a Maal Mi sembra strano Sta qua a pensare Che davvero Abbiano fatto detto A Maal Che punta il titolo Di Bobby Lashley Ho davvero paura Di certo Non mi giocherò mai Un pronostico Di Money in the Bank Ma insomma Inizio ad avere un po' De paura Detto questo Parliamo di altro Parliamo di altro Tag Team Division E quando si parla Di Tag Team Division A Roe Si parla Degli Archie Bro Che hanno fatto coppia Con i New Day Contro Elias Jackson Ryker E Omos E J Styles Parliamo Allora del fatto Che ci sono stati Diversi segmenti Prima di questa contesa Un po' comedy Ovviamente Se sei a Riddle Con i New Day La devi buttare Sul comedy E si è giunto Anche Randy Orton Con questo lato qui Anche se Randy Non è che abbia partecipato Con chissà quale battuta Anzi Ha cercato un po' Di ammazzare il comedy Andando a dire Che lui prova piacere Nell'ammazzare le leggende Di distruggere carriere Piuttosto che fare Quelle cazzate Tra virgolette Che fanno i New Day E lo stesso Riddle Magari In queste settimane Riddle ne ha fatte parecchie Di cazzate Dall'altra parte Invece c'erano Elias Jackson Ryker Omos E Gestaiz Che non è che Avessero chissà Quale alchimia Anche se nel match Si sono comportati Abbastanza bene Non sono mai andati In collisione Ma diciamo che Erano team particolari Messi insieme Ecco Nel 4 contro 4 C'è poco da dire Non mi ha annoiato Anche se A un certo punto Quando ho visto Omos Fare piazza pulita Mi è venuto un attimo Da ridere Mi è venuto da ridere Perché tutto quanto Si sta collegando A quello che dissi Prima di Wrestlemania E guarda caso Omos è quel big man Che deve devastare Tutti quanti E Agee Styles Deve fare la figura Del Pirla Perché in WWE Funziona così da anni Ma non credevo Che Styles davvero Facesse così bene La figura del Pirla Viene da dire no Omos a un certo punto Ha devastato chiunque Fuori Dentro al ring Fuori Fuori Lì troviamo Agee Styles Che si ritrova A combattere Contro il New Day Che a un certo punto Lo mettono a terra Lo fanno girare 400 volte Attorno a sé Omos Vede Styles in difficoltà Che fa Va quindi ad aiutare Il suo tag team partner I New Day Scappano Ne approfitta A quel punto Che Randy Orton Sul ring Va a fare l'archeo A Elias Che era l'uomo legale Del team Il 1 2 3 E così Abbiamo la vittoria Del team Face Io sono davvero dispiaciuto Per queste Agee Styles E poi i fan De Styles Li posso capire Ma qua non è soltanto Questi numeri di fans Dicevoci la verità Agee Styles è uno dei migliori Al mondo Venire trattato così Già da adesso Già da adesso Ragazzi Perché Io pensavo che fosse un percorso Magari Lento Che magari Vedevano Styles Star lì a guardare Omos che dominava Le sue prede Invece qua Sì Omos sta dominando Le sue prede Ma Styles Fa la figura del fesso E si perde quasi sempre Già per colpa sua Robba Vabbè Vabbè Andiamo avanti E esaminiamo Quello che è stato Il post match Con Coffee Kingston Che durante la celebrazione Va a dire qualcosa A Randy Orton Poi Va Sul paletto E Randy Orton Lì che fa Ne approfitta Per colpire il partner Di Coffee Con Una RKO Quindi Xaver Si becca An RKO Coffee si gira subito Va verso Randy E giustamente La vibra Fa l'ARKO Anche A lui E lì Riddle Rimane leggermente Di sasso Seppur con un sorrisetto Bellissimo Come Riddle Si è andato a dire Randy Ma se fai così Non ci troviamo Assolutamente Degli amici Che vai Facci piano Randy che fa Abbandona il ring Se ne va Sulla rampa E Riddle Rimane là Un po' A parlottare Con quei due Distrutti Sul match E a me Quella cosa mi è piaciuta Non so dove vogliono RKO Con Randy Orton E Riddle Questo Non lo capisco Ma questo Allo stesso tempo Mi affascina Fortunamente tanto Mi stanno piacendo Davvero tanto Yark e Bro Bellissimo Poi Riddle Bellissimo Poi Riddle Dopo l'attacco Andrà a dire Randy Oh se fai così Non ci facciamo amici Che cerca di essere più amici Randy se ne è già andato Però Randy già Era fuggito L'idea di avere amico Coffee Kingston Secondo me Non gli piaceva proprio Ecco Quindi Riddle è stato Secondo me straordinario Perché poi Non è che tu Stavi lì a pensare Non è che Randy Fa anche un archivio a Riddle No Però io stavo più che altro Almeno questo è il mio punto di vista Stavo pensando A Riddle E detto Ora cosa dirà Randy E se non uscire Con quella parola Non è straordinario Se continui così Non ci facciamo amici Nella Team Division E però lo faceva Con quel sorrisetto Un pochino vago Chissà Chissà Dove vogliono davvero Arrivare a parlare Con Riddle e Randy Sono Molto intenzionato A sapere dove voglia Arrivare a tutta sta questione Andiamo avanti Andiamo avanti E parliamo Di qualcos'altro Purtroppo qua Abbiamo anche un episodio Molto sfortunato Mi riferisco Al match Tra Umberto Careio E Scimus Match Che stava andando Anche abbastanza bene Non c'era il titolo Estrino in palio Era quindi Un single match Che doveva far prevalere Un po' Il wrestling Il lottato Di Umberto Careio E Scimus I due stavano facendo Anche una buona contesa Che però È stata macchiata A un certo punto Da un brutto infortunio Per Careio Che aveva provato Il sunset flip Powerbomb Da Lepron al Matt Che ricopre La parte esterna Del quadrato Lì però Ragazzi La gamba di Careio Fa un crack Gramoroso E addirittura Lo stesso Careio Va a richiamare il medico Dicendosi di essere infortunato L'arbitro esce Fuori dal ring E dà la vittoria A Scimus Per forfeit Ovviamente Anche se Ovviamente Careio Ha chiamato l'infortunio E mi è un po' Dispiaciuto Perché Ok che Careio Secondo me Lo stavano un po' Ricostruendo Però Sinceramente parlando Non è che mi stesse Piacendo chissà quanto Come un ambito Contender Quando si parla di infortuni Però Io non godo per nessuno Anzi sono dispiaciuto Perché Tra l'altro L'ho anche visto brutale Il momento dove Si è andato a far male Umberto Careio Ci è rimasto molto male Ho detto questo Secondo me Si è fatto male Infatti Appena ho visto Che si prova a rialzare E chiamava la rapida Ho detto Poraccio Si è rotto Dalle notizie Dalle notizie Umberto Careio Sembra stare comunque bene È ritornato nel backstage Hanno fatto probabilmente Già dei controlli Visto che gira voce Che Umberto Careio È comunque Un lottatore Che potrebbe tornare a combattere Già Presto Questo a me fa felicissimo Ora però Sono curioso di vedere Dove voglio arrivare a parare In vista Di backlash Presta almeno Backlash Perché Shemus Visto così Dopo un finale del genere Non dovrebbe combattere Teoricamente A quel periodo là Staremo a vedere Dispiaciuto comunque Il carino Ce l'ho rimasto male Perché Era stato un infortunio Davvero brutto 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 Poi quando lo fanno live Peggio ancora Di Eva Marie Vi ho già parlato Fatemi dire questo Shelton Benjamin Contro Cedric Alexander Secondo me È stata la miglior cosa Di Mondo Electro E come cosa Ovviamente parlo anche Del miglior match Di Mondo Electro Studiato Benissimo Nei minimi dettagli Non solo Secondo me Da chi Ha Ha eseguito Questa contesa Che ha messo Sti due Sti binari Per fare Questo tipo Di match Ma anche Da due lottatori Che ragazzi Mi sono piaciuti Davvero tanto Si è visto Il fatto Che loro Sono stati Tapped in partner Si conoscevano Molto bene Con le loro manovre Era bello Questo storytelling Che Shelton Sapeva Cosa avrebbe fatto Cedric E Cedric Sapeva cosa Avrebbe fatto Shelton Benjamin Bellissima idea Poi Era un po' Difficile capire Sì Chi era L'effettivo Face Tra i due Io penso Che non ci fosse In quel momento Perché Shelton Era incazzato Cedric Lo era ancora di più Tant'è che Cedric Urlava E le urla di Cedric A me davano fastidio Perché È giusto Che sia così È giusto Che sia così Io la voce Urlante di Cedric Così aggressiva Non la sopportavo Ma questo Va dato merito A Cedric Alexander Però ragazzi Perché quello Deve fare lì Deve trovare qualcosa Per essere più Il dell'altro In questo caso qua E Cedric L'aveva trovato Il match era stato Molto buono Anche perché I 2-3 sono fenomenali Secondo me All'interno del ring Un'ottima alchimia La decide Ragazzi Come posso definirla Non so se qua L'ho scritto Però A un certo punto L'arroganza Sì ecco Il termine giusto L'arroganza di Cedric Gli costa caro Lui dopo aver Eseguito una manovra Contranto di rebound Delle corde Riesce a mettere a terra Shelton Benjamin Prende tempo Lo prende a calci Non va per la finish E ciò permette A Shelton Benjamin Di sorprendere Il punto in bianco Cedric Alexander Tira fuori Un'altra finish Se non sbaglio Questa la faceva Proprio tanti anni fa Mi sembra Il T-Bone Suplex La seguiva davvero Tantissimi anni fa Shelton Benjamin Risulta essere decisiva A differenza Dalla Pieda Che Cedric Era riuscito A evitare più volte T-Bone Suplex All an hour 1-2 E 3 Shelton Benjamin Batte Questa Cedric Che aveva presa Troppo confidenza Con se stesso Era diventato Troppo Arrogante Nei confronti Del suo extra team Partner Gli urlava di tutto di più Diceva che era Tutta colpa sua Se non erano più Se non erano più Nell'art business Se non erano più Un T-Team E lì Shelton L'ha punito Bello 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 Mi è piaciuto Davvero tanto L'alchimia Continuo però A dire Che aver splittato Sti due E' stato un enorme errore Ancora più grandi Di separare da Bobby Lashley E MVP E però Dobbiamo andare avanti Perché se no Stiamo sempre a ripensare Al passato E parte che i video Verrebbero tutti uguali Andiamo avanti E vediamo Quale sarà Il loro futuro Ecco Non mi vorrei Soffermare troppo Su questa cosa Di Damian Priest Non mi vorrei Soffermare troppo Di Damian Priest Contro John Morrison Nuovamente Nel mio di video Ho detto tutto Ragazzi Mi sono rotto Molto le palle Della storia Qua Addirittura Abbiamo visto Damian Priest Contro Morrison Nuovamente A Raw Dopo settimana scorsa Sono se non sbaglio Tre mesi e mezzo Che vediamo comunque John Morrison DeMitz E Damian Priest Convolti Sempre nella solita roba E nonostante Avvino tirato fuori Una discreta contesa Non mi hanno Intrattenuto per niente La storia Per me Non ha più Nessun mordente Non capisco Perché Damian Priest Abbia ottenuto Un match Contro DeMitz A Versamere a Beglas Addirittura Mi viene a dire questo Non capisco Perché DeMitz Abbia ottenuto Un match Contro Damian Priest Perché comunque Lui ha già perso Due volte In maniera sonora Contro Damian Priest In singolo Non so cos'altro Dobbiamo vedere Poi qua C'era il fatto Che se Damian Priest Avesse battuto Morrison Avrebbe scelto La stipulazione Così come se Morrison Avesse battuto Damian Priest Eccetera 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 Priest Ragazzi Praticamente Fa un match simile A quella settimana scorsa Dove riesce a battere Morrison Che è stato aiutato DeMitz L'unica cosa Che qua Mi è venuto il dubbio È che vogliono splittare DeMitz e Morrison Ma Basta Pensare a sti dubbi Perché se io inizio a pensare Che vogliono splittare Pure DeMitz e Morrison Tanto vale Non guarda più La Dark In Division Sennò è preoccupante Molto preoccupante La storia Damian Priest Quindi batte John Morrison E va a scegliere Wumberjack Match Come situazione Per la contesa Contro DeMitz A WrestleMania Backlash Probabilmente vedremo Dei lottatori di Rock Dei lottatori di SmackDown Damian Priest Ha detto ad Adam Pierce Di invitare anche Alieni e Zombie Io spero che non vedremo Trashate del genere Però insomma Tutto è possibile Anche perché Damian Priest Ha detto proprio questo Invita anche Alieni e Zombie Perché Perché no Perché DeMitz Non mi deve proprio Fuggire Lo voglio massacrare Io non so che cosa Devo dirvi in più Desta storia Perché ovviamente Damian Priest DeMitz E Morrison Mi hanno rotto Molto le palline Peccato perché Sono quello che sono Sapete cosa ne penso io Di John Morrison DeMitz E Damian Priest Ma non so più Come commentarvi Certe cose Menevent A meno che io Abbiamo saltato Abbiamo saltato Qualcosina Al massimo Vi chiedo scusa Vi recupereremo Con i pronostici Di Wrestlemania Backlash Menevent Braun Strowman Non c'era Qui però C'era Drew McIntyre Contro Bobby Lashley Match che abbiamo visto Già svariate volte E comunque Era un rematch Di Wrestlemania 37 Allora La contesa Ho davvero poco Da dire sul match Nel senso Quando hai due Lottatori del genere Con questo momentum qua È difficile un po' Criticarla I due hanno fatto Quello che dovevano fare Si sono massacrati Per bene Vedo Andrew McIntyre Leggermente in calo Leggermente in calo Ovviamente anche Perché Non credo Che la WWE Deba togliere il titolo A Bobby Lashley Per ridare A questo McIntyre Che non sta venendo Gestito benissimo Una qualche settimana A questa parte Secondo me Forse proprio per quello Non deve essere Campione da WWE Mi è andato a dire anche questo E il match però Diventa piacevole Quando McIntyre Riesce a prendere Un po' La situazione in mano Trova anche la via Per uscire dalla Full Nelson Cosa che non gli era riuscita A Wrestlemania Qua è riuscita a liberarsi Dalla morsa Di Bobby Lashley E addirittura Poco dopo Gli va anche a connettere Il suo Claymore kick Io ho detto Cazzo Qua danno una vittoria Pulita a Drew McIntyre E le cose magari Possono anche un pochino Cambiare In Mr. WrestleMania A backlash Che se lo scorsese Avesse battuto Bobby Lashley Prima di WrestleMania A backlash Forse sarebbe cambiato Un pochino il mio pronostico Che è abbastanza chiaro Poi ve lo comunicherò Ovviamente nel video Pronostico Di WrestleMania A backlash Però ecco Una volta eseguita La Claymore kick Su Bobby Lashley Ragazzi Io ho detto Qua Vediamo un po' Che deve succedere McIntyre Ci sta mettendo Loggermente tanto Anche a cercare Una via Per rialzarsi subito No Faccio la Claymore kick Smesso seduto E lì Resonata La team Di Braun Strowman Braun ha un po' Preso a cuore Quello che gli aveva detto MVP A inizio puntata Anche se è un modo suo Perché sì Effettivamente Braun Strowman È andato ad attaccare Drew McIntyre Ma non con la voglia Di infortunarlo Come voleva MVP Bensì soltanto Per lanciare un messaggio Quindi sì Braun Strowman Entra sul ring Attacca McIntyre Running power Stram a lui Benissimo Primo messaggio lanciato Poi si volta verso Bobby Lashley C'è una running power Stram anche per lui E addirittura Poi lo portano anche fuori Dal quadrato E lo va a sbattere Contro la bala usta Si spacca tutto quanto Ma Braun Strowman Si rialza tranquillamente In piedi Andando a puntare il dito Contro MVP Per fargli capire Che non è Minimente accettato Il suo piano Quello era il piano Del Monster Among Man Probabilmente questo È stato il miglior Braun Strowman Negli ultimi mesi L'ho preferito molto di più A quella roba Contro Shane O'Mac E ciò Ha trovato conferma Anche una volta Che Braun Strowman Ha risolvito su ring Andando a fare un'altra Running Power Slam A Drew McIntyre E la puntata Si è chiusa così Con l'urlo di Braun Strowman Che sembra essere pronto In vista di Presta Mania Backlash Ci sta come finale Anche se non è Che io abbia Così tanto hype Per sta contesa Da sti tre Perché Non lo so Mi aspettavo alto Dopo Presta Mania Per Bobby Lashley Invece si ritrova In mezzo ancora Questa storia Con McIntyre E Braun Strowman Che però Vi avevo detto Che avrebbe ottenuto Dato lo shot Post Presta Mania Appena avrebbe abbattuto Shane O'Mac Non avrebbe ottenuto Dato lo shot Così hanno fatto Però non riesco A avere chissà Quale hype Anche forse Per colpa della costruzione Che mi è sembrata Abbastanza Leggibile Tutta quanta Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Come al solito Spolliciate Commentare Condividete Iscrivetevi al canale Come questo ancora fatto Ragazzuoli Da me è tutto Ciao Suite